Buongiorno a tutti! Continuiamo questo tour alla ricerca di quelli che sono i fattori indispensabili per guarire. Sto prendendo in considerazione nei miei video dei casi di remissione da malattie considerate incurabili, quindi di malati terminali, ma questo perché? Perché sono degli esempi di quanto è possibile rivoluzionare la nostra vita se solamente lo vogliamo e se solamente ci impegniamo. Abbiamo parlato dei nove fattori che hanno portato queste persone alla guarigione e nello scorso video abbiamo parlato di quanto è importante giocare un ruolo proattivo, prendere il controllo della propria salute e giocare un ruolo proattivo che vuol dire assumersi la responsabilità della propria vita. Oltre a questo è indispensabile avere la volontà di cambiare. Allora, se la mente cambia, anche il corpo cambia e se il corpo cambia, anche la mente cambia. Quindi noi siamo in grado di fare delle cose sorprendenti quando comprendiamo quali sono le nostre potenzialità, quanto potere abbiamo, ci crediamo e facciamo delle cose. Quindi è indispensabile sapere, è indispensabile credere, è indispensabile fare. Mentre dire solamente voglio cambiare, voglio guarire non basta. Per cambiare è necessario avviare un processo interno e iniziare a chiedersi cos'è andato storto nella nostra vita, cioè iniziare a analizzare la propria vita onestamente con noi stessi e iniziare a fare delle scelte anche se emotivamente sono difficili, richiedono tempo o richiedono di uscire appunto dalla nostra zona di comfort. Ma solamente nel momento in cui prendiamo in analisi la nostra vita e cambiamo, facciamo le scelte indispensabili, noi sperimentiamo un cambio di mentalità. Quindi per cambiare abbiamo bisogno sicuramente di un forte desiderio, di una fede nelle nostre capacità e abbiamo bisogno di aspettative di successo. Aspettative di successo, dobbiamo essere fermamente convinti che ce la faremo. E poi dobbiamo confrontarci con le resistenze. Allora le resistenze sono chiaramente sia esterne che interne. Quelle interne hanno a che fare con le paure, i dubbi, le convinzioni limitanti. Non sono in grado, non sono abbastanza bravo, non ce la farò, non sono un buon annullo. Ce ne sono tante di convinzioni limitanti. Ecco queste dobbiamo metterle da parte o trasformarle in potenzianti attraverso l'azione, cioè attraverso la messa alla prova. Ma ci sono anche tutta una serie di resistenze esterne che molto spesso vengono dalle persone che sono a noi molto vicino, come familiari, fidanzati, che sono appunto le critiche. Perché ovviamente quando noi iniziamo a riscoprire quello di cui abbiamo bisogno, iniziamo a mettere il focus sulla nostra persona e non tanto sugli altri. Quindi iniziamo a non accontentare più gli altri, iniziamo a fare delle scelte magari più coraggiose, non convenzionali, e gli altri tendono comunque ovviamente a fare un pochino di resistenza. Quindi la maggior parte delle persone non vi dirà mai che quando fate delle cose per loro considerate strane, in realtà sono le cose che a voi piacciono, a voi rendono felici, non vi diranno mai che sei sulla strada giusta. La gente cerca sempre di bloccarvi, di mettervi in guardia e proprio per questo voi dovete resistere. E' chiaro che più la vostra scelta è coraggiosa e più incontrerete delle critiche. Però noi sappiamo bene che tutti i grandi spiriti hanno sempre dovuto comunque combattere contro tutta una schiera di spiriti mediocri che li hanno ostacolati. Ecco, quindi vi invito ovviamente a aumentare la vostra autonomia personale, aumentare la vostra resistenza alle critiche, in particolare quelle esterne e iniziare un pochino a allenarvi, a fare proprio come vi pare. Quindi questo è il mio consiglio. Vi invito ad avere sempre più aspettative su voi stessi e pochissime dagli altri e a non pensare, a non sperare mai che gli altri vi dicano che siete sulla giusta strada perché saranno veramente pochi quello che ve lo diranno quando fate delle cose coraggiose. Un saluto!